Avevo detto che oggi andava tutto tranquillo, eh? Pareva strano. Vorrei prendere Uncharted 4, siccome così finisco la trilogia, porto anche sul canale. Non posso, perché prima ho cercato di scaricarlo in automatico. Perché gli ho detto, dammi la versione gratuita che c'ho con PlayStation Plus. Sì, ok, te la scarico subito. Non me l'ha aggiunta nella raccolta, eh? Quindi, cioè, oltre quello. Mi fa, non c'ho spazio. Io dico, va bene, non ho spazio. Cancello la roba, poi lo scarico. Adesso non lo posso più prendere. Perché dice che c'ho il multiplayer 4 currency. E in questo momento, nei dati salvati, e posso farvelo anche vedere. Nei miei dati salvati non c'è assolutamente nessun Uncharted 4. E non è neanche nella galleria. Perché... Nella raccolta, perché... Sono in ordine, alfabetico. Non mi pare di vedere Uncharted 4 qui. Quindi, cioè... Vorrei dire che la Sony mi sta prendendo per il culo adesso, perché in questo momento... Metà dell'abbonamento è andare a puttare. Va bene di Artirelli, però se non mi dai 4, io non lo posso portare. E non lo posso giocare, perché non l'ho mai giocato. Perché se io vado a vedere... I giochi di PlayStation Plus... I miei giochi di PlayStation Plus... Quello non c'è. Quindi... Brava Sony. Complimenti proprio... Complimenti vivissimi. Hai fatto casino come tuo solito, proprio, letteralmente. Quindi io in questo momento non posso portare... Se non si risolve la stessa cosa, io non lo posso portare a Uncharted 4. Grazie, eh. Grazie vivissimo. Grazie. Grazie mille.